Ce lo avete chiesto in tanti Gior Paschi, cosa lo fate? Un film? Una sui paschi! Una faccia della web! L'esordio di Casa Suraj Ci siamo! Arrivo La saga tanto attesa Il momento è arrivato Un luogo senza tempo Attenti! Pura adrenalina Porta, muoviamoci, non c'è tempo Siamo Attacca Oh! È mezz'ora che sto dicendo Attenti, attenti, attenti I tavoli non si mettono così si squascia tutto Ma chi è il responsabile di San? Non ci siamo Sagra Suraj 28, 29, 30 luglio Al C Ah no? Alla Certosa di Padula Faremo una sagra Una sagga? No, no, una sagra C'è con la R La scuola è la scuola 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 La scuola è la scuola